Mi raccomando, io sono stato stronzo, ho messo la difficoltà al massimo Ma perché? Ma per... Ma figlio di puttana e non ce lo dici neanche Perché siamo in foresti, io l'ho vinto solo in art mode da solo Cancro, cancro, cancro perché tu non ti devi ricollegare 20.000 volte, cane Dai andiamo Se qualcuno di noi muore abbiamo un defibrillatore dopo un uomo Seguite me, sono un ingegnere Beh intanto è deciso una voce E il tasto è F Appena si apre usciamo eh? F F Eccoci qua Ah qualcuno di noi ha poca vita nessuno, se ti lasciamo perdere andiamo Salvatelo Salvatelo Te la fa Te la fa, vai Io sono convinto che qui esploda qualcosa Ah questo esplode tutto alla fine Andiamo Pino Aaaaaaah Perché? Spoilery E io mi gliccio Non premere il tasto di nuovo Hai schiacciato la polanna No, sei morto Bene Siamo io e Ray Esatto Però è uscire ed entrare Perché sei una troia No 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 no, in modalità spettatore Ma che frocio di merda Ma non ce la fai proprio? È colpa tua Ma è tua madre Mi hai fatto morire tu Me l'ha detto lui Me l'ha detto lui Ah godetevi ragazzi Io adesso cerco di seguirvi Sono in modalità spettatore Sto vedendo Tino Con i ragni Ah quindi quello è il trucco Fate finta che io sia dietro di voi Esatto, guardate la telecamera Aaaaaah C'è nell'overflow Non stare davanti alla retina Porca puttana Non stare davanti alla retina Porca puttana Io ho predito tutto quello Tutto di questo Aspetta 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 Be careful Gordon E' io lì La persona la persona da seguire è Dino Aia No tu no E' splasta E' scappato via dalla paura E' scappato via dalla paura è morto mi sono andato a suicidare nell'ascensore come te allora vabbè si è rimasto da solo però mi sta su sta cosa perché troia lui ha messo l'hard mode senza respawn no non cambia niente allora allora dai rey noi ti stiamo guardando serve shooting down che bello lo rifacciamo perché siete degli handicappati normal almeno in normal va bene la rifaccio di funnet giocare all'uno bene chi è te? ah cioè partiamo dall'inizio si sentiamo la intro e stavolta giochiamo meglio si spera non sento senti come cammina ma porca troia le porte no le porte si aprono non gli contro non faccio io davvero? si si ma porca puttana io che premevo e? no state fermi state fermi cagne con action channel overflow ma perché mi succede così spesso? ciao 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 Grazie.